Pronto? Mario? Sì, Ciccio. Mario, puoi venire un secondo? Chi che sta in cliente. Al trentino, basta levarlo all'ultima lettera. Magari sono i miei spagnoli, noi peggio esterno. Va bene, dai, Ciccio, vengono, vengono. Arriva, arriva, arriva. Ciao Mario, te lo ricordi? No, 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 Mario! No, glielo facciamo a lui la magia adesso. Stai tranquillo, te la facciamo a te. Dobbiamo incatenarla. Poglio cavarmela? Non ti preoccupare. Allora, dici te cosa dobbiamo prendere. Adesso sei a porto finto biondo, l'ha sistemata noi... No, 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 lui originale così. In Armenia nascono così, sì, in Armenia nascono così. Allora, prendiamo prima di tutto questa corda, no? No, no, con la corta, con la corta. Ah, non il cappio, la corta. Il cappio, stringilo te. Sì. Ok, Mario, to. Una te, una te. Adesso mi dovete legare bene e forte il polso. È capace? No, in contrario. No, così, così. Allora, quando dico uno, due e tre, dovete tirare, va bene? Non c'è problema. Contate voi, vai. Vai. Ehi, chi ha detto tre già? Chi ha detto tre? Chi ha detto tre? Chi ha detto tre? È l'uscita di là. Ah, mi significa io. Hai visto che sto... Vocabolario italiano... Uno, due, tre. Tira ancora, tira ancora. Basta, basta. No, facciamo vedere che è un legato. Un altro nodo, un altro nodo. No, no, qua sopra, qua sopra. Un altro tuo. Fa il ticket che sceglie. Marinaio. Nei gruppi. Basta. In gruppo. In gruppo. E... Molla. Ah, scusa. Andate in gruppo adesso. Ui! Legate qui dietro. In gruppo. In gruppo. No, in gruppo. In gruppo. Eh? In gruppo. Ok, basta uno, fate tre. Basta uno? No, no, fate un bel tiro. Tirate, forte. Ah, tiriamo addetto. Uno, due, tre, vai. Ancora. Un altro. Non c'è la forza. Fai il nodo. Ahia. Sempre dimmi. Un altro? Fai il nodo. E' fatto il nodo. Non vuoi un altro? L'hanno legato bene? No, allora facciamo un altro. Ma fanno un altro, dai. Fanno un altro, dai. Oh, se non si libera sono cacchi vostri. Va bene? Tanto. Ok. E dentro l'u. Poi. Di qualcosa adesso, capo. Sì, sì, sì. No, no, il cappio. Ah, il cappio. Il cappio. Il capo, eh. Il cappio. Questo. Mario. Ti ricordi quel cinema del western? Che via lì. Sì. Che attaccavano la vacca. E sei proprio incappiata. La stiro? No, no, no. Va bene così. Una a te, una a te. Sì. In centro. Dove c'è il focchetto? In centro. Legate dietro. Allora, passate la corda. Tirate. Tiriamo. Uno, due, tre. E facciamo il nodo? Sì. Fai il tiro, guarda che te sei il marinaio. Chi è il marinaio? D'acqua dolce, Lu. Ho sentito un poverino, grazie. Ok. Adesso un nodo. Metto il de qua, giusto? Sì. Sembra che sta legando il camion. Guarda, ha messo anche il piede davanti. Ok, ok. Legato. Grazie. Adesso? Del disturbo. No, 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 no. Il sacco. Il sacco, ci penso io, al sacco. Il sacco. Allora, no, no, facciamo vedere al pubblico che il sacco è tutto intero. Girate. 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 Ecco. Così? Il sacco. Ah, il sacco dovete girare. Il sacco. Madonna. Giriamo il sacco. No, perché mi si sta staccando il polso. Sì. Il sacco com'è? No, giusta. Cosa ha detto? Cioè, vuoto. Cioè, neanche... Chi ha detto vuoto? Neanche a garda l'amere. Scusa, scusa. Puoi chiamare la signora che viene sul palco? Quale? Quella là con il cucchiaio in mano. Venga, signora. Vieni, 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 vieni. Vieni. Devi venire a controllare che il sacco è vuoto. Un applauso, per favore. Un applauso, venga. Signora. Venga, per favore. Dai che mi si sta staccando. Venga. Mi si è fermato sempre. No, salga da questa cassa qui. E va bene. Mi sono atteggiato. Eeeh. Va bene, non facciamo niente di male. Ho capito, e ce ne ha due. Che cacchio me ne frega a me che si è rotto un piede. Un applauso per la signora. Signora, controlli. Controlli. Poverino, grazie. Mi controlla le tasche, per favore, signora. Adesso, triplo. Signora. Triplo salto mortale. Signora, puoi controllare le tasche dietro? Perché quelle davanti, non lo so che sono bucate. Ah, l'Armenia. Odono, schiaffo. Ok. Le tasche, non la corda. Aspetta, ciccio, la dì, mi vago. No, aspetta un attimo, fa che vedo che c'è. Fai vedere la sicura. Ecco, controllate il sacco. Signora, controlli che il sacco... Mettila in testa, mettila in testa. Mettila in testa. È vuoto? Ma lo sappiamo che è vuoto! Ma porca la miseria! Stiamo dicendo che è intero. È integro. È tutto cucito, vero? Non c'è niente, nessun buco. Ho visto come la di BEM, integro. Io da terrone è integro. È il nord, integro. Vedi, che ti hai da imparare da noi? A posto? A posto? Un applauso. Attenzione. Qualcuno ha dato una mano? Scusi, scusi, scusi. Gli puoi dare la mano, no? Poverina. È la che guarda. Bravo. L'ha tirata. Bene, adesso entrerò dentro questo sacco. Non c'è problema. Ok? Sì. Dai ragazzi perché mi si sta staccando il polso. Non ti preoccupare, è il tuo, il polso, non è il nostro. Tanto ce ne hai due. Salta. Posso salutare un attimo il pubblico? Sì, saluta. Grazie. Chiuderete bene, mi raccomando, la chiave pubblico deve vedere. Sì. Ok. Ok. Vai giù. Aspetta che prendo il lucchetto. Mamma mia. Ok. Mi si sta staccando. Signori, infilo. C'è l'ambulanza vicino? Sì. Infilo perché è l'unica cosa che infilo stasera. Infilo. Non c'è niente da ridere, per voi è da ridere, per me è da piangere. Infilo. Ci sono i bambini. Infilo, mia moglie ha sempre mal di testa, non so perché in Trentino ci avete sempre mal di testa. Infilo. L'aria pulita. Infilo. Ci siamo. Lucchetto. Lucchetto qui è chiuso. Ok? Appoggiate sulla mia testa e non buttate perché... Qui chiudo. La chiave, signori. La chiave. Appoggia. La tengo in mano. No, la metto qua. Davanti a tutti. Davanti a tutti. Questo te l'ho messo qua. Lascialo giù. Perfetto. Cosa dobbiamo fare adesso? Adesso Mario si mette davanti a me. Mario ti metti davanti, per favore. No, no, no. Non c'entri niente. No, no, no. Stai tranquillo, Mario. Così, non gli fare scoreggie. Sì. Sì, perché ci sono dietro io. Ok, e questo ve lo mettiamo su. Vai. Aspetta, ecco. Vai. Allora, mettiglielo su. Ce l'hai? Da qua. Cosa dici? Mettiamo un po' di musica d'atmosfera. Aspetta. Un po' di musica d'atmosfera. Attenzione. Aspetta che chiudiamo bene. Sotto. Fai vedere che c'è Mario. Signori. Dai l'ultimo saluto. Ok. Ok. Beggi rodaria. Te fei Mario, Mario. Te rinfreschiamo. Adesso, vi ricordate Bill Clinton? Ecco. Loro stanno facendo la stessa cosa sotto. Non è una scrivania, signori. Ma è un telo nero. E loro stanno facendo qualcosa. Attenzione. Mario sta scoprendo che cos'è il sesso adesso. Se vedete Mario che cammina con le gambe aperte, sapete che l'armeno gli ha fatto il servizio. Cicciola, è tutta invidia la tua. No, no, no. Sì, 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 sì. L'armeno con i capelli gli sta spazzolando. Adesso scoprirete cosa succederà. Perché l'armeno, armeno. Scorla, Ciccio, scorla. Scorlo. Scorlo. Voce del verbo scorlare. Io scordo. Tu scordi e gli scorla. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Musica, musica. Non si sente l'uno. Uno. Più forte. Ma più forte. Grazie. Finalmente. Grazie, Karen. La chiave è qua, eh? Scusa, eh. No, dovrei far vedere anche... Ciccio, mi sono sera in cantina. Che bel. Non c'è. Aspetto che t'averzo la ribalta. Che bel. Chi sta sera alla porta della cantina? Ma non l'hai stordito mentre lo mettevi nel sacco? No, no. Ciccio. Chi è che ha un ducato per buttarlo giù nell'Adige, su a Trento? Sì, signor. Sì. Ciccio. Eh? Ehi, ma sei in una cantina. Eh, vabbè. Dobbiamo liberarlo però adesso. No, dai. Chiediamo al pubblico. Sempre. Votazione. Su per liberarlo, giù per lasciarlo. Luce in sala. Al mio tre. Uno. Anche qui c'è destra-sinistra. Visto? Perché di qua sono tutti giù. Uno, due, tre. Hanno detto tutti giù. Guarda. Neanche i tuoi bambini. Neanche i tuoi nipoti vogliono su. Vedi quanto ti vogliono bene. No, lo liberiamo. Liberiamo, dai. Lo liberiamo. Speriamo che la chiave è giusta. No. Questo lucchetto. No, neanche questo. Oddio. Ah, sei lì. Mario. Mario. Penso che si è liberato. Sta soffocando. Ma no, so io che sono te. Non so aprire le cose. Cucuma Romeo. Sioni, sioni, Karem. Grazie. Ciao, Karem. Bravissimo.